L'assessorato ai diritti ed equità sociale del Comune di Andri ha promosso nei giorni scorsi una giornata di studio dal titolo Lo sguardo sul bambino maltrattato, come potrà leggere l'alunno vittima di violenza. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni di sensibilizzazione e formazione promosse dall'equip multidisciplinare specialistica su abuso e maltrattamento costituita nel 2009 dal Comune insieme all'ASL con l'ufficio di servizio sociale per minorenni del Ministero della Giustizia, Polizia di Stato e Carabinieri. All'incontro hanno preso parte dirigenti scolastici e docenti delle scuole di ogni ordine grado di Andria e gli operatori delle agenzie socioeducative del territorio. Vediamo. Una giornata di studio per analizzare un problema molto diffuso, ossia i bambini maltrattati vittime di violenza organizzato dall'assessorato ai diritti ed equità sociale del Comune di Andria. Assessore, qual è la situazione e perché l'esigenza di soffermarsi su un argomento di grande attualità come questo? È un bisogno, è un dovere che noi abbiamo, è quello di tutelare i minori, per cui è vero che il Comune di Andria è già molto più avanti rispetto ad altri comuni. E proprio la produzione di questo lavoro fatto, questa indagine comunale sul maltrattamento dei minori e degli adolescenti ad Andria è un lavoro che ha precorso i tempi rispetto ai dati che ora la Regione chiede, ma che Andria ha già fatto un po' di tempo fa. Quindi un'attenzione è sempre massima, ma è un'attenzione che va sempre rinnovata per migliorare le collaborazioni, per migliorare le intese. Perché, come ho già detto, è doveroso da parte nostra porre la massima attenzione. Esiste una rete multidisciplinare, funziona, funziona anche bene, però abbiamo sempre bisogno di stabilire nuove intese, stabilire nuove collaborazioni, soprattutto con chi prima di noi viene a conoscenza di situazioni di sofferenza e di maltrattamento dei minori. E mi riferisco ai pediatri di base, mi riferisco agli insegnanti, i quali ci danno spesso collaborazione. Però sicuramente questo è da migliorare, perché l'argomento in sé comunque destra sofferenza, destra malessere, quindi il meccanismo di negazione forse è il primo ad intervenire e quindi a prendere il sopravvento. E noi abbiamo il dovere, proprio attraverso giornate di studio come questa, di soffermarci, di riflettere, di confrontarci, di condividere questo percorso per poterlo migliorare. I dati di questa indagine a cui lei faceva riferimento che cosa ci dicono? Ci fanno una fotografia, questi sono dati, questo è un lavoro preciso, meticoloso, fatto dal dottor De Robertis, che è un assistente sociale del comune di Andria, dell'area minore, in collaborazione con tutti gli assistenti sociali dell'area minore di Andria. Assessore, la situazione quindi com'è in generale? Ci sono molti casi che sono stati seguiti, ci sono molti casi di disagio, però c'è ancora molto sommerso, perché sicuramente non si segnala con tanta facilità, forse proprio perché si ha l'idea che tutelare la famiglia sia molto più importante che tutelare il minore e questo è un messaggio che noi vogliamo portare avanti con un incontro come questo.